Buonasera a tutti e benvenuti in questo tutorial basico di Twinmotion. In questo tutorial sconteremo tutti i meccanismi che ci permetteranno di lavorare agevolmente su Twinmotion e poterne conoscere i vari aspetti. Twinmotion come software ci permette di renderizzare abbastanza velocemente e animare sempre abbastanza velocemente tutto ciò che viene modellato naturalmente esternamente a Twinmotion stesso perché non è un programma di modellazione 3D bensì di renderizzazione. All'interno di Twinmotion appena aperta la prima schermata avremo a disposizione vari finestre. Ci sono presenti alcuni tutorial specifici per alcuni tipi di visualizzazioni. Abbiamo la possibilità di accedere a una community e scambiarsi opinioni o consigli con altri utenti che utilizzano lo stesso software e abbiamo anche nella parte bassa che sarà molto utile poi in fase di lavoro una libreria dei lavori più recenti che sono stati effettuati. A sinistra oltre alla possibilità di creare nuove scene da cui partiremo o aprirne di salvate abbiamo altre tre voci. Allora una importante soprattutto all'inizio per poter imparare sono i template. I template non sono nient'altro che delle basi di lavoro dove troverete impostazioni già salvate per poter renderizzare al meglio o con piccole correzioni alcuni determinati tipi di scene. Sono suddivise in prodotto o architecture dove architecture in realtà avrà al suo interno dei template specifici a livello di scena dove ci saranno presenti alcuni tipi di fondali con un certo sole alcuni effetti di notte e quant'altro. Per quanto riguarda i prodotti invece sono delle basi molto comode che ci permettono di avere già pronte delle basi di lavoro dove poter inserire i nostri oggetti in base alla nostra necessità. Nella sezione learning invece, anche questi vi conviene seguirli perché sono molto ben fatti, abbiamo alcuni corsi online gratuiti che sono messi a disposizione da Twinmotion stesso come alcuni tutorial per poter migliorare la qualità di alcuni rendering e nella parte sottostante che andremo a utilizzare, soprattutto il lake house, abbiamo anche i template a livello tridimensionale, cioè ovvero delle scene già precomposte che ci serviranno proprio per fare allenamento. Una volta dato uno sguardo a questa prima interfaccia partiremo a creare per ora inizialmente una nuova scena che sarà una landa desolata e ci permetterà di andare a gestire un pochino tutto quello che sono i comandi di Twinmotion. Allora, l'interfaccia è così composta. In alto una finestra file che ci permette di creare una nuova scena, quindi sopra scrivere questa, aprirne di una nuova, salvata, aprirne una recente, salvare, importare, fondere delle scene e potere invece esportare le scene create all'interno di Twinmotion con tutto quello che ne concerne il modello che stiamo creando. Possiamo editare il progetto, quindi è la scena che noi andiamo a editare e tutti gli elementi che ci sono presenti. Naturalmente intorno, diciamo, su ognuno di questi comandi a destra avete il comando rapido come il CTRL Z, il CTRL Y per mandare avanti e a mandare indietro i comandi che noi stiamo applicando, copiare, incollare, cancellare, che sono comunque gli stessi comandi che trovate sulla tastiera, classici per qualunque sistema DOS e andare eventualmente anche a impostare delle preferenze. Partiamo proprio da qui per poter poi procedere a tutto quello che è invece la gestione del file stesso. Cliccando sulle preferenze all'interno di questo menu che è molto complesso, molto ampio, andremo a dare uno sguardo solo ad alcune cose. Allora, innanzitutto all'unità di sistema. Questo è importante perché in fase di conversione, se il nostro modello 3D è stato per esempio progettato in millimetri, andare a importare un file in centimetri o addirittura su un file Twinmotion impostato in metri, ci troveremo molto scomodi per quanto riguarda le impostazioni della scena, il sole sullo sfondo, eventuali HDRI che saranno scalate male, come anche tutte le texture dei materiali presenti all'interno del modello o gli oggetti 3D. Per esempio, divani, sedie, eccetera, saranno o molto grandi o molto piccoli se non c'è equità di unità di misura tra il modello 3D e la nostra scena. Diciamo che di base io adesso lavorerò in centimetri, quindi non lo vado a toccare, ma perché non sto andando a impostare nulla. Timestamp, se noi avessimo la necessità di lavorare con gli orari solari, quindi è l'impostazione classica in 24 o 12 ore, il sistema hardware che viene supportato dalla grafica, quindi possiamo scegliere con che cosa stiamo lavorando. Naturalmente, se l'avete a disposizione, meglio il Direct 12. Se il Path Tracer, ovvero il motore di rendering in tempo reale, che ci permetterà di visualizzare in tempo reale la qualità massima di rendering che stiamo per lavorare, possiamo impostarla su alcuni parametri. Questi parametri poi li imposteremo in un secondo momento, volendo, se avete un computer performante, possiamo andare a modificare di default quello che è il preset più alto, quindi aumentare la quantità dei pixel all'interno dell'immagine per poter avere una qualità maggiore della nostra anteprima. Io di norma lavoro a 300 pixel e bounce setting lo lasciamo a 10. Probe resolution lo lasciamo così perché serve semplicemente per poter lavorare ma è inutile andarlo ad aumentare maggiormente. Lo SkyDome, ovvero la cupola che simula il nostro cielo attraverso delle HDRI che possiamo caricare, possiamo andare a modificare la risoluzione. Naturalmente conviene lavorare in risoluzione media perché portarlo in risoluzione alta ci inficerà sul lavoro a livello di tempistiche in fase costruttiva e non ci interessa. Tutto quello che riguarda invece la qualità qui non lo andiamo a toccare, non andiamo a modificare. Il gismo e il motion blur li possiamo tenere attivi, anzi servono attivi. Possiamo andare a modificare però, per esempio, per la rotazione, questa è una cosa che faccio spesso per essere più preciso, l'angolo di snap, cioè ovvero il gismo come in il gamble in rhino o il gismo in 3d studio max o altri software 3d. Anche all'interno di Twinmotion ci permette di spostare, ruotare o scalare un oggetto all'interno della scena. Avere un vincolo sulla rotazione, quella di default, di 5 gradi risulta abbastanza scomodo perché per fare delle piccole correzioni siamo obbligati a scrivere o comunque poi ci ritroveremo in difficoltà. Quindi lo imposteremo a un grado. Il salvataggio sarà automatico, questo vi conviene lasciarlo così perché così in automatico verrà salvato in una determinata cartella che sarà all'interno dei documenti di windows, così da ritrovare gli autosalvataggi e poi eventualmente lo imposteremo in fase di lavoro. Per quanto riguarda le esportazioni lasciate tutto spento perché nel caso in cui uno dovesse fare un'esportazione allora lì andremo a scegliere come esportare o meno. Il vSync, il point cloud e il vR per ora non li andiamo a toccare e per quanto riguarda il mouse non andate a impostare nulla. Questo serve per lasciare di default l'utilizzo standard del mouse. Passando invece alla qualità, naturalmente qui bisogna andare a lavorare in base all'efficienza del proprio pc, come Lumion o Keyshot che lavorano in tempo reale. naturalmente in base alla prestazione del vostro computer avrà necessità di essere impostato in una maniera o un'altra. Per quanto riguarda i vostri computer naturalmente in base al tipo di scheda grafica che avete, in base al processore e altre caratteristiche che potete trovare sul sito Twinmotion, per quanto riguarda la qualità di lavoro che potete effettuare, andrete a impostare questi valori per rendere il vostro lavoro molto più fluido. Quindi in realtà andrete a perdere un pochino di qualità sul video, ma naturalmente avere un lavoro un po' più fluido vi fa beneficiare nel tempo anche nella gestione del file. Dipende anche dalla dimensione del file che starete per creare. Per quanto riguarda il point cloud lo lasciate basso semplicemente perché è il calcolo preliminare che lui fa delle geometrie 3d. Successivamente non cambierà nulla, ma lavorando in questa maniera voi avrete una qualità eccelsa a livello di grafica e il 3d verrà alleggerito di molto, ma non andrà a perdere di qualità. Naturalmente se queste impostazioni sono molto alte, lavorare con un'impostazione media va più che bene. Se avete un computer che vi permette di lavorare su Twinmotion agevolmente solo esclusivamente con le impostazioni basse il mio consiglio è quello di effettuare un upgrade del computer che stiamo utilizzando. Per quanto riguarda l'apparenza noi possiamo andare a scegliere un linguaggio, quindi il tipo di lingua. Non è possibile selezionare l'italiano e quindi continueremo a lavorare in inglese. L'interfaccia è scalata a una certa percentuale, quindi noi andiamo possiamo andare a modificare la scala della nostra della nostra area di lavoro. Lo lasciamo al cento per cento e per il resto lasciamo impostato in questa maniera. Clicchiamo su ok e possiamo iniziare a lavorare.